Buonasera a tutti i telespettatori di R24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Il weekend pasquale è iniziato con una splendida giornata di sole su tutto il nostro territorio regionale. Anche la giornata di Pasqua risulterà stabile su tutta l'Emilia Romagna. Non sono infatti previste precipitazioni. Tuttavia la situazione andrà leggermente cambiando. La mattina trascorrerà con cieli per lo più poco nuvolosi maggiore nuvolosità a metà giornata specialmente a ridosso dell'Appennino. Questo a causa della circolazione depressionaria che si attiverà per ora lontano dalla nostra regione però porterà ventilazione da sud-est ovvero lo scirocco che porterà appunto maggiore nuvolosità in quota. L'aspetto termico però non cambierà. Avremo comunque un pomeriggio pasquale decisamente gradevole con valori massimi compresi tra 18 e più 23 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di Pasquetta vedrà maggiore nuvolosità fin dal mattino ma la situazione peggiorerà probabilmente solamente a metà pomeriggio quando la nuvolosità risulterà compatta e le precipitazioni potrebbero giungere dapprima sull'Appennino poi sul resto della regione ma probabilmente tra la sera e la notte sulla giornata di martedì. Quindi potrebbe essere salva la scampagnata della giornata di Pasquetta. Per questo appuntamento è tutto. Auguro a tutti voi una buona serata. Grazie.